Grazie a tutti. Qua in cima a cinquant'ora è uno spettacolo, quando poi sorge il sole, che le rette cominciano ad illuminarsi. Sia in slalom che in gigante che in discesa devi sapere esattamente dove vai. E avere un controllo totale di dove hai direzionato gli scii prima di ogni... Con la tavola. Con la tavola? No. Non te lo volevo dire. Non te lo volevo dire. Non te lo volevo dire. Non te lo volevo dire.